Minimo sforzo, massimo risultato, un sorrento cinico e spietato, manda al tappeto una team Altamura sprecona. Sul rettangolo del D'Angelo la dura legge del gol con Dani Murgiani ed una sconfitta immeritata per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti. Pronti via e primo squido dalla team Altamura, Casiello dalla sinistra, Pesca Croce al centro dell'area e il suo colpo di testa però è fuori misura, Biancorossi che mantengono il pallino del gioco al tredicesimo e un'altra sortita offensiva di Casiello a mettere in difficoltà la retroguardia costiera Attento, Scarano sulla respinta prova ad avventurarsi Lucchese che spara alto sulla traversa. Il sorrento non riesce ad uscire dalla costante pressione avversaria, ne approfittano i padroni di casa pericolosi in due occasioni. La prima clamorosa con un avvantaggiato impreciso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la seconda con una conclusione di Croce dal limite. Al ventiquattresimo lancio perfetto di Biason, Guadalupi aggancia e conclude, Scarano sbarra ancora una volta la strada di via in angolo. Con il passare dei minuti lo spartito non cambia, al trentesimo è un fendente di Biason a mettere i brividi, successivamente un tiro di avvantaggiato si spegne sul fondo. Agli sgoccioli della prima frazione Croce avrebbe la palla per chiudere avanti, il suo diagonale finisce a lato, squadre che guadagnano l'avvio degli spogliati in perfetto equilibrio. In avvio di ripresa, Mister Piccolo prova a mischiare le carte in tavola con l'ingresso di Cassata al posto di Mancino, i murgiani però continuano a prendere d'assalto l'area avversaria. Casiello va via sulla sinistra e scarica al centro, palla che in maniera rocambolesca finisce tra i piti di avvantaggiato che questa volta deve fare i conti con il muro eretto dalla difesa rossonera. Al sessantaduesimo il numero uno ospite è costretto nuovamente all'estraordinario suo avvantaggiato, Sorrento che esce dal letargo 5 giri di lancette dopo con Liccardi che sfonda sull'auto di destra e trova Kunzi che non ponge. Al settantanovesimo puntuale ecco la beffa per la team Altamura, a fondo di Cassata Alfonso Gargiulo impatta la sfira e mette alle spalle di un incolpevole Donini. Biancorossi che cercano di rimettere in piti una gara maledetta e l'ottantacinquesimo è tedesco a rendersi pericoloso con una conclusione che finisce la propria corsa sul fondo. Nel finale ci pensa Procida, bravo a scattare sulla linea del fuorigioco, a chiudere definitivamente i giochi. Tanti limpianti per la team Altamura, il sorrendo si impone 2-0 e continua la propria cavalcata in vetta alla classifica.